Buono Udi, buono. Ciao a tutti da Chris Attinger, il salutatore del blog, direttamente dalla Fiera di Roma per la mostra di bellezza internazionale degli amici a quattro zampe. Abbiamo qui Udi, poi... Suami. Yuri. Yuri. Royal. E Royal. E qui tutti gli amici che vengono da tutta Italia. Abbiamo... Amedeo. Da dove vieni? Roma. Marta da Pordenone. Alex da Pordenone. Massimiliano da Torre del Greco. Barbara da Varese. Livia da Milano. Paola da Milano. Salomon Torre del Greco. Ermanno da Roma. Allora salutiamo tutti quanti gli amici di YouTube, MySpace, Twitter e soprattutto di... Facebook! Ciao a tutti! Ciao! Ciao!